Per una settimana una ventina di ragazzi, laureati e laureanti, studenti da tutta Italia, comunque di base a Gela, si sono ritrovati qui appunto per seguire le nostre lezioni sulle competenze, sulle nuove skill, sul risviluppo del territorio e oggi presenteranno le loro business ed ammaturate proprio in questi cinque giorni di lavoro. Stiamo puntando a fornire gli strumenti necessari per la promozione del territorio e questo insomma è stato ben accetto dai ragazzi che hanno elaborato diverse idee progettuali che mirano al rilancio del territorio attraverso i punti di forza di questa città, dalla storia, dalla cultura, ai prodotti tipici gelesi. Diverse le manifestazioni di interesse da parte di questi ragazzi e l'augurio è che possano realizzare quanto prima questa loro idea progettuale. Gela è conosciuta per quella città inquinata, per quella città dove si muore per tumore, invece no, Gela ha una bellissima storia, un bellissimo territorio che può essere di nuovo riqualificato e rilanciato e riprodotto perché noi possiamo avere realmente un turismo forte con una grande economia. Le idee che sono i mattoni fondamentali per costruire un futuro diverso da quello che abbiamo avuto fino ad oggi e che tenga in considerazione molti più punti e attenzioni a quello che può essere un futuro sostenibile. L'amministrazione appoggia questo tipo di eventi perché crediamo che solo con le buone idee è possibile riuscire ad avere un buon futuro.